Musica Un cordiale saluto a tutti voi, buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV Questa è la rassegna stampa delle 7.30 del mattino Allora cominciamo a vedere subito i quotidiani e vediamo qual è il santo di oggi per cominciare Il santo di oggi è Sant'Elena, madre di Costantino, il sole è sorto alle 6.15, tramonterà 8 minuti dopo le 8 Allora vediamo il tempo perché ci sono delle novità, intanto delle novità che non sono per oggi ma per i prossimi giorni, per il fine settimana Avremo un oggi cielo sereno, poco nuvoloso con temperature stazionarie o in lieve aumento Il mare sarà poco mosso, per domani già cominciano i primi segni di cedimento di quest'alta pressione E avremo nel pomeriggio di domani isolati rovescio temporali nelle zone dell'entroterra In particolare sul Monte Feltro, Nerone, Catria eccetera eccetera In nottata però avremo possibilità di rovescio temporali anche di forte intensità Ieri già è arrivato un allarme, un'allerta meteo quindi attenzione Diciamo tutto è confinato nell'entroterra Però vedete già domenica la situazione cambia e queste precipitazioni che inizieranno dalla serata di domani alla notte Continueranno, si estenderanno lungo tutta la costa nella prima parte di domenica mattina Ok, avremo rovescio temporali sparsi a partire da nord, poi in transito verso il resto della regione nel corso della mattinata E ripeto attenzione perché i fenomeni localmente saranno anche intensi Poi si esauriranno diciamo nel corso della mattinata a partire da nord Scivoleranno giù fino al pomeriggio insomma per poi migliorare il tempo durante la serata Le temperature sono in diminuzione, il mare sarà molto mosso Avremo tempo stabile invece soleggiato già per la prossima settimana Allora i giornali abbiamo soltanto il Corriere Adriatico Poche pagine questa mattina del Corriere Adriatico Il resto del Carlino si fa difficoltà anche stamattina a scaricare il PDF Però il resto del Carlino se lo volete lo troverete in edizione cartacea Allora andiamo a leggere la prima pagina del Corriere Adriatico Eccola qua La siccità sgretola, questo è il titolo Le reti idriche Guasti non stop e squadre in azione Dall'inizio dell'estate decine di rotture Lato stima perdite attorno al 40% Dunque c'è questa emergenza siccità che continua tra crisi idrica e rotture delle condutture Il terreno si secca Dunque spacca diciamo le condutture In attesa della pioggia per ridare linfa ai corsi d'acqua e anche alle sorgenti del nostro territorio Dato che si stimano 6.000 metri cubi di acqua in meno al giorno E dunque proseguono le difficoltà nell'approvvigionamento idrico Un problema che in particolare riguarda le aree interne dove il servizio viene integrato Con l'ausilio di 12 autobotti di marche multi servizi Poi a centro pagina una notizia da umbrellone diciamo così Non è fondamentale saperlo ma insomma ce lo dice questa mattina il Corriere Che alle donne pesaresi piace l'amore online Dalla consigliera alla casalinga non si cerca soltanto sesso Boom di registrazioni locali sui portali di incontri per single E spopolano le donne over 40 cioè che hanno più di 40 anni Per lo sport sotto la testata del Corriere Adriatico Per la VL parliamo di basket sono ultimi giorni prima del raduno Mentre a Senigallia tempo di tango il festival entra nel vivo Andiamo sotto per l'altra notizia che tra poco leggeremo dalle pagine interne Profilglas operaio dimesso ditta estranea all'accaduto Lo avevano portato al centro grandi ustionati di Cesena Il titolare Pace dice non aveva staccato la corrente elettrica Dunque è stato già dimesso con 20 giorni di prognosi L'operaio di Bergamo rimasto ustionato al volto e mani Durante il lavoro di riparazione dell'impianto elettrico della Profilglas Era stato ricoverato a Cesena Come dicevamo la ditta estranea però a quanto accaduto Era una ditta esterna Dichiarato il titolare della Profilglas di Bellocchi Giancarlo Paci Infatti campeggia tutta pagina il titolo d'apertura Eccolo qua sul Corriere di questa mattina L'operaio esterno ferito ha ammesso di aver compiuto comunque l'errore Mentre Simona Ricci segretario provinciale della CGL Dopo l'ultimo incontro alcuni provvedimenti sono stati accolti E poi il centrodestra a Fano che teme lo scippo rossignano del carnevale L'appello è quello che l'ente carnevalesca, l'ente che organizza questo carnevale Si ribelli sarebbe l'ennesima svendita In realtà abbiamo visto e letto che insomma non è così Anzi l'ente carnevalesca è contenta di questa sinergia con la città di Pesaro Che il prossimo anno festeggia Gioacchino Rossini E quindi non sappiamo, scrivono, se quello a cui stiamo assistendo Scrivono quelli dell'opposizione a Fano Non sappiamo se quello a cui stiamo assistendo Si è solo un primo passo verso l'ennesima svendita di Fano Che questa amministrazione ormai da anni sta permettendo E il documento porta la firma di Davide Del Vecchio dell'Udc Mariana Magrini di Progetto Fano Gianluca Ellari di Progetto Fano Stefano Mirisola di Forza Italia E Luca Serfilippe della Tua Fano Ex Agip Il terreno dove prima c'era il distributore di carburante Vicino agli ex capanoni di carnevale Serve un parcheggio anche per le scuole Sul destino di quest'area liberata interviene anche la Conf Commercio Che certamente fa gli interessi dei commercianti in quella zona E dunque vorrebbe un parcheggio Ma soprattutto vorrebbe un parcheggio per valorizzare Via Cavour E soprattutto le attività che lì hanno un'attività E sappiamo quanto c'è bisogno di parcheggi Ma insomma non tutto si può avere Vuole buttarsi dal quinto piano Un anziano è stato salvato all'ospedale Santa Croce Il personale ha disposto la chiusura di tutte le finestre Ma con l'aria condizionata rotta Dunque c'è stato questo dramma della disperazione Nell'altro giorno nell'ospedale di Fano Un uomo ricoverato nel reparto di geriatria Ha tentato il suicidio Provando a gettarsi dalla finestra Il reparto si trova al quarto piano Della torre ospedaliera Una torre che con la sua altezza complessiva Di cinque piani Non è purtroppo nuova a fatti del genere Allora C'è la notizia Che farà piacere anche ai fedeli Della diocesi di Fano Monsignor Tonucci Dopo aver trascorso 50 anni in giro per il mondo Monsignor Giovanni Tonucci È un fanese È stato arcivescovo per tanti anni a Loreto Lo è ancora, a dire il vero Fino al 2 di settembre Quando entrerà quello nuovo Insomma Dopo aver trascorso, dicevo, 50 anni in giro per il mondo Perché era delegato pontificio Annunzio apostolico Quindi insomma un incarico molto di prestigio Il vescovo di Fano Monsignor Trasarti È adesso a disposizione della diocese A disposizione del vescovo Ha girato, come dicevamo Per 50 anni Ora torna a casa Nella sua casa al poderino E sta per occupare Appunto stabilmente La sua casa Nel piano fanfani al poderino Lo ha già fatto, a dire il vero Ha raggiunto la pensione Perché credo abbia 76 anni circa Mi metterò a disposizione Del vescovo di Fano Trasarti Dei parroci e dei sacerdoti Ha detto Giovanni Tonucci Che tra l'altro ieri Era alla confraternita del suffragio Per una conferenza Una conferenza Una presentazione di un libro Sul Vaticano Allora Questa è la Pagina del Corriere Adriatico La seconda pagina di Fano del Corriere Adriatico Quella che è sempre la terza Su Fano Apre con Lo spettacolo della regata Che conquista ancora il Lido Redenzione 28 Con 27 barche protagoniste E bambini di Tèa Compresa Tra i 9 e 14 anni È la tradizionale regata Di Ferragosto Che è stata organizzata Dal club nautico fanese Che oltre ad essere Un evento sportivo Di particolare interesse Offre ai bagnanti del Lido Uno spettacolo Di grande suggestione E poi Sempre sulla pagina di Fano Del Corriere Adriatico Paese dei Balocchi Montanaro E il diritto al sogno Nella seconda serata Il reporter Appunto Montanare Silvestro Montanari Che tra l'altro È per questi giorni È stato nominato Neosindaco Del paese dei Balocchi Nella seconda serata Il reporter Racconterà la storia Di Sankara Chi è Sankara Adesso non abbiamo tempo Per spiegarvelo Però è una bella storia Vi invito Ad andarla ad ascoltare Dalla pagina Della Valle del Cesano Macchina entra Nello sferisterio Travolge la rete E scappa via Paura Durante la partita Di pallone Con il bracciale Presenti Sul muro Decine di turisti E di curiosi Ora Potete immaginare Insomma Che cosa si può essere Cioè che cosa si è Pensato in quei momenti In quei frangenti Quando questa macchina È entrata Nello sferisterio Travolgendo la rete Un po' Tenendo conto Anche di quello Che sta succedendo Purtroppo in giro Con il mondo E di questa ultima Moda dei terroristi Di fare Le stragi Utilizzando Mezzi A quattro ruote Come è successo Purtroppo a Barcellona In queste ultime ore Erano le 22.45 Le due squadre Di tre giocatori Si stavano allenando In piazzale Borroni Poi serata medievale Invece A Pergola Con C'è questa Non edizione Della Di questa Rievocazione storica La serata medievale È una rievocazione Dell'arrivo a Pergola Delle spoglie Dei Santi Secondo Agabito E Giustina È la non edizione Organizzata Dall'amministrazione Comunale di Pergola Che Io l'ho vista Qualche anno fa Insomma Vale la pena Andare a vedere Credo che ci siamo Le ultime due pagine Sono da Urbino Gambini È il sindaco di Urbino Della città ducale È furioso Con Ars ducale E parla Della festa del Duca E già annuncia Ora si cambia Il sindaco Nessun rediconto E niente rispetto Come l'anno scorso Adesso però basta Millantano Quelli dell'organizzazione Della festa del Duca L'assenza di contributi Ma il Comune Invece Il Comune di Urbino Ha fatto tantissimo Per questo evento Evento che tra l'altro Come leggevamo ieri È andato molto bene In termini di presenze Via statue E palchi Da Palazzo Ducale Da Palazzo Ducale Mentre i costumi Secondo Gambini Sono buoni Ma solo nelle intenzioni E intanto il Teatro Ducale Porta mille persone A Palazzo Marco Pugliani Dice Un progetto Che merita Di essere sviluppato L'ultima pagina Invece Sempre quella di Urbino È per la presentazione Di un grande evento Sportivo Il campionato mondiale Che si terrà A Pesaro A fine mese E che avrà Come media partner La Galleria Nazionale Delle Marche Ginnastica e arte La grande alleanza Cena di gale Delegazione sportiva Palazzo Ducale Gli occhi di 54 nazioni Ammireranno Le nostre bellezze Dunque Aufreiter Che è il direttore Si merita Dice Si merita Quest'evento Una grande cornice Mentre Pieri Primo passo Della collaborazione Sotto invece L'uomo dei record Ottaviani Ricevuto da Mattarella È stato È stata In realtà È successo Ormai Un po' di tempo fa Però Siccome c'è stata Questa festa Sant'Ippolito Nei giorni scorsi Dove è stato Ricordato Anche Questo evento Del campione Ultracentenario A 101 anni E ancora Corre Lo conoscerete In tanti Ottaviani È stato anche Al festival di Sanremo Credo l'anno scorso Ebbene È stato ricevuto Anche dal presidente Mattarella Sergio Mattarella Dopo essere stato Insignito Del premio Sant'Ippolitese 2017 La rassegna stampa Finisce qui Grazie Per la vostra Cortese attenzione Vi auguro Una buona giornata E vi ricordo Che se avete Segnalazioni Da inviarci Potete utilizzare Questo numero Di telefono Che vedete In sovraimpressione Noi ci vediamo Questa sera Alle 20.30 Con il telegiornale Vi auguro Una buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti